L'arma migliore per combattere i tumori è la prevenzione, lo screening è vita. Con questo slogan il Comune di Cepagatti e l'Asli di Pescara hanno organizzato tre giornate dedicate alla promozione degli screening per la diagnosi precoce dei tumori del colon retto, della mammella e del collo dell'utero. Il 21 settembre dalle 9 alle 12, il 28 settembre dalle 15 alle 18 e il 12 ottobre dalle 9 alle 12 negli spazi della Croce Rossa di Cepagatti sarà allestita un'area all'interno della quale sarà possibile acquisire tutte le informazioni sui programmi di screening portati avanti dalla Asli, verificare la situazione personale rispetto a questi screening, prenotare i test. Camillo Sborgia, assessore comunale alla sanità. Intendiamo ringraziare la Asli per scala della figura del direttore generale dottor Claudio Damario ma soprattutto anche l'ufficio screening perché questa iniziativa significa investire nella salute. Noi sappiamo che ogni euro investito nella prevenzione significa moltiplicare per mille se non per diecimila quindi far sì che si possa fare uno screening vero e proprio nella popolazione a rischio e prevenire i tumori. Io lancio uno slogan che oramai sanno tutti quanti che è meglio prevenire che curare. Per evidenziare l'importanza dello screening il manager della Asli Claudio Damario ha fornito dei dati sui quali riflettere. Faccio un esempio banale, già nell'ambito della prevenzione dei tumori dell'intestino, già con i primi inviti che abbiamo avuto in quest'ultimo trimestre abbiamo evidenziato quasi un centinaio di casi di patologie neoplastiche di cui il 90% sono casi trattabilissimi in fase molto precoce quindi si eviterà tutto quello che è la catena poi purtroppo del percorso oncologico e solamente in 7-8 casi si trattava di tumori già in fase conclamata che comunque avranno un esito sicuramente molto più favorevole se non fossero stati diagnosticati in questo ambito così precoce.